Una carriera professionale ricca e prestigiosa è l'ingresso in politica per la prima volta in assoluto, direttamente dai piani alti. La sfida di Fabrizio Micari in effetti è già contenuta nel suo slogan, la sfida gentile. In suo sostegno il centro-sinistra con il Partito Democratico, Alternativa Popolare, Sicilia Futura e Arcipelago Sicilia, Micari presidente. Proprio quest'ultima lista è stata esclusa circa un mese fa dal Collegio di Messina a causa di un ritardo nella presentazione dei documenti. Nella lista era candidato l'ormai ex governatore Crocetta che potrebbe togliere voti preziosi al rettore che ora spera nel ricorso. L'ultimo sondaggio elettorale ufficiale è stato effettuato dall'Istituto Demopolis e è reso noto il 5 ottobre. Fabrizio Micari si attestava al terzo posto con il 22,5% delle preferenze. La lista Micari presidente potrebbe superare lo sbarramento elettorale del 5%. Insomma, a due giorni dal voto il candidato si reputa soddisfatto del lavoro portato avanti. Nonostante le critiche per essere salito sull'altare della chiesa Santa Maria delle Grazie in corso di mille a Palermo.